Il Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro ha presentato in Sala Giunta i dati relativi all'attuazione del Decreto 35 in Campania. Erano presenti l'assessore al bilancio Gaetano Giancane, il Capo Dipartimento Risorse e Finanze Salvatore Varriale e in rappresentanza delle imprese che hanno goduto dei benefici del decreto il Presidente del gruppo Piccola Industria dell'Unione Industriale di Napoli Paolo Bencivenga che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Sicuramente le imprese ci sono e vogliono reinvestire, le imprese stanno tenendo, vogliono avere questi aiuti che poi non sono aiuti, diciamo questo ritorno alla normalità. Come segnaliamo sulla sanità siamo avanti, sugli altri comparti dobbiamo riprenderci e dobbiamo riprendere il sistema campania. In applicazione del decreto sono stati erogati in campania 2 miliardi e 200 mila euro, distribuiti in 10 mila aziende, cifra che sale a 3 miliardi e 129 milioni grazie all'erogazione in altre risorse aggiuntive. I tempi medi di pagamento sono passati da 210 giorni nel 2011 a 180 nel 2012 e a 150 nel 2013, fino ad arrivare a 90 nel primo semestre del 2014. Soddisfazione nelle parole del Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro ai nostri microfoni. Siamo pagando i vecchi debiti, quindi abbiamo pagato 3 miliardi di vecchi debiti fatti da altri, li paghiamo noi, senza aumentare le tasse. Tutte le regioni italiane che hanno pagato queste cifre hanno dovuto aumentare le tasse, le imposte. Noi siamo l'unica regione italiana a non averlo fatto. Siamo bravi, virtuosi, ma l'effetto vero è che paghiamo le imprese che stavano in sofferenza, significa lavori, investimenti e maggiore ricchezza in un momento di crisi e la campania è un'eccezione in Italia.